Ciao Praticamente oggi farò il mio primo video tag ovvero questa sezione è la mia borsa Praticamente non solo le femmine avete le borsse pure le macchie, è la verità ovvero io che sono molto sola la porto quando vedo al centro la porto ovvero sempre allora intanto questa è la mia borsa io odio le tracolle quindi non prendo le tracolle Ed è la terranova troppo carina troppo carina troppo carina troppo carina me l'avevo poco consapevole ma me l'avevano regalata quindi non so il resto mi dispiace allora siccome dei giorni che non sono al centro e li sono andato al mare non mi sono abbruntata per niente visto che mi sono messa nell'ombrellone ho detto a chi apriamo vediamo cosa c'è e voglio farmi insieme a voi il primo mio video tag al secondo voglio fare un secondo video di cui parlerò vi farò vedere scusatemi le scarpe le 5 scarpe che indosco ecco dalla mia preferita alla mia non preferita sono molto interessanti gli aspetti veramente quindi direi di seguirlo poi lo faccio dopo allora vediamo un po' cosa c'è il ragazzo oggi il ragazzo io prendo random allora troviamo le cucchie del mio LG con lui che sta filmando con quell'LG3 quello che sta una merda comunque poi troviamo la fotocamera questa me l'hanno regalata per il pomplanno e per la la della boh tre c'è scritto però fa tutto veramente carino e l'unico tipo è che la batteria non dura niente vabbè io posto quella 10 minuti quindi altro regalo sempre complesso allora poi c'è dei documenti i documenti non possono mai mancare non si sa mai tra la quale c'ho all'interno la tessera sanitaria e il codice fiscale che l'accelerò adesso mi prenderò di coraggio e vi farò vedere la mia tessera la foto era diventato proprio in questa foto comunque non mi sono mai piaciute le foto che vengono nelle foto tessere vengono sempre male poi troviamo all'interno gli occhiali epici e scherzi li indosca non per metterli qua ma per girarli indietro i capelli così perché metto il secondo paio negli occhi è sempre più amoloso un americano a Parigi con due paio d'occhio a Parigi questi li ho presso al mercatino al modico prezzo no con le mercatine perché al mercatino da me li vendono pure ma li ho presso da un negozio da noi che si chiama i cobolle 3 euro poi proviamo a a a a a a a che si è caldo il ventaio cioè che non ne ha uno questo lo ho presso le marocchini quelli per strada un euro devo dire che è buono vabbè tutti i ventaio sono buoni poi troviamo l'accendino certo per quando prendiamo devo dire pure dove l'ho comprato e i marocchini che guarda sintetico dai lo so vabbè sabattina lo vende 60 poi le batterie quelle scadenti adesso con la fotocamera sono scadenti questi questi dipendono da un euro il sacco da postre se lo giorno l'ho dovuto utilizzare perché un'altra mi si è bruciata poi troviamo il 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 una cara della rivel questa l'ho avuto sempre per i scigli specialmente quelle di sopra perché a me sono le sciglie belle lunghe e praticamente lo metto lo metto sempre attento cosa l'occasione permessa lo vado a cercare le sciglie praticamente costissime così così ci alzano al certo questo lavoro presso 8,90 da OBS spero di essermi spostata il dito sottotterle vediamo 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 vedo 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 dopo senza scocchio mi ci trovo molto bene perché non lascia non è molto a fuoco poi abbiamo vedo diodorante questo si chiama Exotic l'ho preso nel ristorante ed è bellissimo perché ha lo stesso profumo dell'Ipnotic quel son di horror quello originale che è a casa in un video forse lo posso vedere se non mi ricordo male in uno in uno o in un po' di Epray dopo la prima non mi ricordo però mi sembra che l'Ipnotic lo posso vedere e l'ultima cosa mi costa un foglio mio e senza soldi vedete e poi proviamo pure la card di Goku io seguo molto specialmente se l'Hormone però se l'Hormone praticamente non ho card due cose che ci entrano ho delle figurine vecchie però troppo piccole quel son quindi niente quindi ho messo una delle tante card che ho di Dragon Ball e poi facendo altre vedete e ne faccio delle altre alcune ma le sto prendendo dunque le ho molte quindi prendo e niente questa è la nostra e faccio vedere meglio che spiegare le 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 la carta d'identità la 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 le batterie ammazzate questa è quella che si è nella mia borsa se volete seguite il mio prossimo video che farò però stasera ovvero quello delle scarpe non se se lo faccio stasera o fra un pochettino non lo so prima o dopo la mia doccia che c'è il domenico di caldo viene stato se non sono tenuto il suo sicuro al giorno e arriva il pollettore dell'alcol ma che ci possiamo fare io ci tengo alla polizia e niente spero mi sia piaciuto un giorno più nella mia borsa e niente un saluto a tutti quanti ciao ciao